La laurea ciclo unico di cinque anni in CTF con sede didattica a Bologna forma la figura professionale del farmacista industriale che ha come principale sbocco lavorativo le industrie del settore chimico farmaceutico dove si occupa della progettazione e sintesi di principi attivi, di formulazioni farmaceutiche e del loro controllo di qualità. In Italia il settore farmaceutico negli ultimi sette anni ha visto un maggiore incremento di produzione ed investimenti per la ricerca e questo si è tradotto in un maggiore tasso di occupazione e infatti il 92% dei nostri laureati è occupato a tre anni dalla laurea. Il corso di studio è caratterizzato inoltre da una stretta interazione con il mondo della ricerca. Gli studenti hanno infatti la possibilità di entrare in contatto con importanti centri di ricerca nazionali ed internazionali e per tutte queste ragioni il 91% dei laureati in CTF considera la laurea conseguita molto efficace. Ciò che caratterizza maggiormente il percorso formativo di CTF è la multidisciplinarietà e la stretta interconnessione degli insegnamenti di area biologica, chimica, tecnologica che ruotano intorno al farmaco. All'interno di ogni area ci sono materie di base qual è la biologia animale, l'anatomia, la chimica organica che si affrontano nei primi due anni del corso e successivamente materie caratterizzanti quali la chimica, farmaceutica, la tecnologia farmaceutica, nonché la farmacologia. Peculiarità del corso sono poi gli insegnamenti con esercitazioni di laboratorio a posto singolo, circa 400 ore, la tesi sperimentale e il tirocinio curriculare che apre alla professione del farmacista. Sono inoltre previsti seminari e visite organizzati presso aziende per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Da alcuni anni l'attivazione di CTF all'Università di Bologna prevede un numero massimo di studenti iscrivibili pari a 130. Questa scelta ha l'obiettivo di mantenere un rapporto fra studenti iscritti e docenti tale da consentire un'offerta didattica di eccellenza, un ottimale utilizzo dei laboratori chimici ed informatici ad alta specializzazione nonché lo svolgimento di tesi sperimentali in strutture interne all'Ateneo. Se decidete di iscrivervi all'Università di Bologna frequenterete la più antica università del mondo occidentale che anche per quest'anno si conferma come migliore Ateneo in Italia nelle classifiche universitarie internazionali. Speriamo quindi di incontrarvi nelle nostre aule e laboratori del plesso navile di recente costruzione dove troverete un ambiente moderno e accogliente. Grazie per la visione!